In Italia, il livello di educazione finanziaria è storicamente più basso rispetto alla media dei paesi Oxen. Gli ultimi dati indicano che il nostro paese occupa il 25esimo posto su 26 per conoscenze in ambito economico e finanziario da parte della popolazione. Conoscere e approfondire le dinamiche economiche, finanziarie e del risparmio è un'indispensabile componente del vivere civile. E incide sulla nostra capacità di dare un futuro alle nostre attività, ai nostri progetti. In questo momento particolare, comprendere l'impatto sulla vita di tutti noi dell'evoluzione del bilancio dello Stato o delle disposizioni della Banca Centrale è cruciale per assumere decisioni familiari ed impresa. La BCC può essere per te un riferimento e un supporto per acquisire maggiore consapevolezza in campo economico-finanziario e fare scelte informate ed efficaci. Siamo al tuo fianco anche grazie alla differenza che ci distingue. Il nostro modello cooperativo è mutualistico. Grazie a tutti! Grazie a tutti.